...mazione magica che facesse rimpicciolire. Trova i preziosi tesori e vinci! Con Faraon! A Vestirio! Fra poco, storie di un pinguino con il professor Pico. La posizione retta e il colorito bianco e nero fanno sì che il pinguino si distingua dagli altri uccelli. Come altri animali marini, i pinguini hanno una forma sottile, hanno le pinne e una cuda corta e cuneiforme. Grazie! Ma ti pare? Mi faccio provare il mare! Grazie, Pingu! Ottima informazione! Non può dare un'occhiata a Violetta se tiene sempre gli occhi chiusi? Allora la porteremo con noi mentre cerchiamo Junior! Grazie ancora! Ora devo scappare! Ciao! Noi stiamo andando al cinema, venite anche voi? Non possiamo! Dobbiamo occuparci della piccola Violetta! E poi abbiamo un mistero da risolvere! Molto bene! Vi aiuteremo a risolverlo in fretta, così poi andremo tutti al cinema! Mmm! Delizioso! Grazie, signor Incubo! Ehm, signor Rompinoche! Ehm, signor... Oh, yeah, yeah! Grazie, signora! Yeah, yeah, yeah! Ehm, signora! Ehm, signora! Voi nella piira... Voi nella piira... Ehm, signora! Giug completion Sì, allora.